Concordo con chi dice che Peterson sembra essere un regista sfortunato all'interno della Pixar, ma sicuramente stimato per i suoi sforzi. Elemental rappresenta un passo in avanti in termini di qualità e quantità, ed è uno spettacolo da gustare al cinema, contrariamente a chi dice che la Pixar si sia arenata con la solita grafica, la solita trama raffazzonata. Siamo dalle parti di Avatar 2, ecco, un esempio recente. Tu segui qualcosa di lineare, ma ciò che emerge con forza è il world building, le interazioni fra esseri diversi fra loro, in questo caso fra elementi. Ritorno al motto della Pixar, come avrei desiderato, se gli elementi fossero in vita e potessero parlare? Dopo giocattoli, formiche, pesci, mostri, emozioni, morti, anime, gli elementi ci vengono incontro e vanno ad ampliare con impeccabile coerenza il parco titoli Pixar. Tradizioni, riverenza verso chi ti ha cresciuto, discriminazione, voglia di esplorare vie non battute discostandosi da attività familiari, l'importanza di un amore fra opposti che generano una chimica da non sottovalutare, non c'è troppo di tutto, ma elementi di elementi che impreziosiscono un racconto che stupisce in primo piano per la città di Emerald, di Element City, l'ambiente suburbano del fuoco, la fotografia curata che definisce al meglio ogni strato dello scenario che circonda e investe i suoi protagonisti. E poi ci sono continui riferimenti ad un'infanzia e ad una crescita importanti per il regista stesso. Le piante magari possono riferirsi a momenti di isolamento positivi che spingono ad un'attenta riflessione sui propri passi da compiere. Il fuoco può essere inteso come fiamma della rabbia che si accende istantaneamente, quindi c'è bisogno di controllare il temperamento. L'acqua è espansiva, empatica, tratti caratteriali imprescindibili per sviluppare armonia fra gli elementi. L'aria e le nuvole invece sono in una posizione privilegiata, godono di certi benefit, ma in questo mondo si prestano anche all'ascolto, vogliono sinceramente dare una mano. Zootropolis, Inside Out, sì abbiamo capito che potrebbe ricordare questi film, lo avete ripetuto per settimane, ma non ci siamo soffermati su due dettagli da riportare assolutamente. Ovvero come vengono rappresentati i generi e le nazionalità, che non hanno forma specifica e si possono confondere fra gli elementi, e soprattutto le dinamiche fra questi, che rendono viva Element City. Ogni tipo di interazione è geniale, da come si ritraggono mezzi di trasporto, a come avvengono gli inseguimenti, fino alla gestione dei negozi, di uffici governativi, per poi arrivare al contatto fra elementi diversi. Più che la Disney e la Pixar di Pete Docter, io mi sbilancerai più su Valerian di Luc Besson, con la sua Città dei Mille Pianeti, dove razze fra le più disparate, invece che scontrarsi, devono unirsi per ampliare le possibilità di sviluppo di una società funzionante. Quindi il design al servizio della grafica, la qualità si eleva, non grazie al solito colpo d'occhio, ma per come viene arricchita la trama, come viene resa scorrevole attraverso gli scambi fisici e verbali fra elementi. E non possiamo dimenticarci delle musiche firmate Thomas Newman, già autore della soundtrack di Wall-E, il mio film Pixar preferito, non si può rimanere indifferenti. Vi suono sonorità tribali orientali che si mescolano con la modernità di Element City. Voci di un altro mondo, oltre a quello del film, giungono in soccorso o sottolineano azioni critiche dei nostri protagonisti, mentre si ricercano, si raccolgono per impostare la propria rotta. Arpeggi e tamburi improvvisano lo spartito dell'intimità, della conoscenza che supera quella fisica, con Amber e Wade al centro di tutto e con doppiatori eccellenti al loro seguito. L'unico difetto, sorprendentemente, riguarda il cortometraggio prima di Elemental, quello di Up che va a dissezionare i pregi del film del 2009 per renderlo spento in colore, demenziale a tratti e senza mordente alcuno. C'erano premesse disastrose, ma prontamente Peterson e il suo team di sviluppo hanno compiuto un miracolo, sia per sorprendermi, sia per elevarsi dallo standard dell'ultimo periodo Pixar, anche se Red e Luca li ritengo molto validi. Ma qui penso si vada più in là con le intenzioni, con la creatività, con la resa scenica, tanto da avvicinarsi ai prodotti originali del primo e secondo decennio Pixar. Qui Antonio Cianci, il Rakata Film per voi ha finito con Elemental, fatemi sapere cosa ne pensate del film sotto nei commenti, vi aspetto, un saluto e un abbraccio carissimi seguaci di Rakata Film. Ciao, alla prossima!